Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Continuiamo la rubrica in cui commento le partite migliori di Magnus Karzen, quindi cerchiamo di capire il suo stile di gioco e come fa a vedere tutte queste mosse pazzesche. Oggi vi porto un'altra partita veramente interessante e istruttiva, quella contro Andreasian. Allora vediamola subito. Karzen gioca come prima mossa D4. Innanzitutto se non l'hai già fatto ti invito a iscriverti qui sotto per non perdere i posti di video e supportare il canale YouTube Scacchista Matto. D4-D5-C4, quindi Gambetto di Donna, apertura già vista e analizzata nel canale YouTube Scacchista Matto, quindi magari ti metto qui sopra il video Gambetto di Donna in 10 minuti, ma in ogni caso lo puoi trovare nella rubrica Aperture di Scacchi in 10 minuti. C6, quindi Slava, cavallo F3, cavallo F6, cavallo C3, D per C4. Si continua nella variante principale della Slava in cui si cattura il primo in C4, A4, Alfiere in F5, si sviluppa subito, Alfiere in F5, cavallo in H4, E6, cavallo per F5. Dunque qui, come sappiamo, esistono due linee. Alfiere di 7, quindi con l'idea di mantenere l'Alfiere, e che poi è la partita che abbiamo visto la scorsa volta, proprio di Karzen, quindi nella stessa rubrica in cui trovate questo video, questa partita, le migliori partite di Karzen e potete trovare anche l'altra contro Drabke. oppure E6. E infatti, con E6, cavallo per F5, per F5, in realtà è vero che si cede a coprire Alfiere, ma il Nero potrebbe ottenere una pulizia interessante, anche aggressiva. Questo penale comunque potrebbe risultare molto utile. Allora, vediamo come continua la partita. E3, chiaramente il bianco vuole riprendere il P4 in C4, Alfiere in D6, Alfiere per C4, Arrocco, Df3. Fermiamoci un attimo qui, perché è molto interessante notare come da una partita che viene da un gabbetto di donna, un'apertura molto posizionale, in realtà si crea una partita molto molto aggressiva, tagliente, e infatti Df3, salviazione per F5. Il Nero giustamente lo difende con G6, anche se esiste anche la possibilità con D5 di difenderlo, forse anche migliore, probabilmente più interessante, perché in questo modo non si indebolisce la sfruttura peonale. Qui in effetti abbiamo delle case deboli che il bianco riesce a sfruttare. Vediamo come. E infatti da un'apertura posizionale si passa ad un'apertura super aggressiva. H3 con idea G4, giura qui il campione del mondo Karsen. Fantastica. Il Nero si rende conto che la minaccia effettivamente è notevole. Qui se il bianco fa G4, peone per, peone per, si crea la colonna H aperta, la regina un attimo prende in H3, attenzione, qui si rischiano anche minacce di matto. E quindi giura H5. Si prova questa difesa alquanto complicata, perché comunque muovere un pedone nel lato del proprio arrocco non è consigliato. Però magari è un'eccezione alla regola. Vediamo. Al fine D2 si sviluppa il fiere, si libera il re la possibilità di arroccare lungo. Fantastico, come da un gambetto di donna si arrocca lungo, è una cosa pazzesca. Ma perché dico questo? Perché, come vedete, la colonna C è praticamente aperta. Diciamo semi-aperta, perché c'è il peone in C6. Però comunque il re non ha pedoni a difesa, non c'è il peone in C2. Quindi è veramente un'opzione stranissima. Però in effetti funziona. Funziona perché qui il nero non riesce a creare un attacco. Additura c'è il peone in A4 pure mosso. Incredibile. Qui il nero non riesce a creare un piano d'attacco e il bianco è pronto a fare G4. E dopo G4 è complicatissimo per il nero riuscire a tenere la posizione. A6. Giustamente il nero deve cercare un controgioco. Se non si può attaccare al centro, bisogna attaccare al lato di donna. Assolutamente. Aprire le linee, la colonna C senz'altro, portare i pezzi in gioco e creare un attacco. Se no qui si soccombe. G4, F per G4, H per G4, H per G4, donna in G2, B5. Si apre la colonna H. In effetti c'erano poche chance, poche altre opzioni. Se il nero non avesse catturato in G4, banalmente il bianco poteva catturare e qui è finita. C'è il primo F5 in presa, ci sarebbe la colonna G aperta. Troppo forte l'attacco, quindi corretto catturare. B5, alferina 2. Non si vuole, chiaramente, aprire la colonna. Né la colonna A, ma neanche la colonna C. In entrambi i casi sarebbe vantaggioso per il nero. Quindi alferina 2. C5, C5 probabilmente è il primo vero errore del maestro internazionale Andreasian. Infatti è vero che l'idea era corretta, concettualmente bisogna aprire la colonna C, quindi è corretto, ma purtroppo non funziona. Probabilmente potrebbe essere migliore a giocare il torino in B8, con l'idea che su cavolo in E4, donna in E7, si comincia a impostare i pezzi in maniera più proficua per l'attacco. Quindi per esempio F3, a donna in E7 attaccava il cavallo, quindi si difendeva un F3. B per A4 si apre la colonna B, ecco perché il torino in B8 è essenziale. Cavolo per D6, donna per D6, F per G4. Qui la posizione è leggermente mandata per il bianco, non c'è alcun dubbio, a causa della coppia di alfieri, la colonna H aperta è un'ottima iniziativa. Qui la regina può minacciare anche dei matti, però si tiene, cioè non è impossibile tenere. Per esempio il torino in E8, donna in H3, re in F8, il re riesce miracolosamente a scappare. Quindi questa sarebbe stata la sequenza corretta. E invece perché C5 non va? Perché dopo cavallo in E4, il bianco riesce a creare un attacco veramente potente. Donna in E7, cavallo per D6, donna per D6, D per C5. Non importa al nero l'apertura con AC, perché paradossalmente il neo non può catturare il primo C5. C'è questa risorsa tattica che è sfuggita da Andreasian. Infatti qui ha giocato donna in E7, ma capiamo perché donna per C5 non funziona. C5, alfiere C3, guardate qui le minacce. La torre minace il cavallo, l'alfiere minace il cavallo in F6. È vero che l'alfiere è inchiodato, però si può schiodare. Una continuazione potrebbe essere per il nero quella di B4, con l'idea di chiaramente attaccare l'alfiere inchiodato. Ma a questo punto torre per D7, fortissima, perché non può il nero catturare la torre, se no ci sarebbe scaccomatto. E B per C3 si continua con l'attacco, non si cattura in C3, si gioca torre per F7. Qua veramente una combinazione bellissima che vi invito, ma questo è un invito che faccio sempre, anche se non lo dico esplicitamente. A volte mettere pausa al video e cercare voi stessi la combinazione corretta è un ottimo allenamento, quindi se vi va, se avete tempo, vi consiglio di farlo. Qui C per B2 scacco, Re B1 è la mossa corretta, perché dopo torre per F7, attenzione perché la regina si cattura, può catturare la torre in A8. Non è F8, ma per A6. Questa linea porta a un leggero vantaggio del bianco, anzi direi chiaro vantaggio del bianco, perché non dimentichiamo che la torre è inchiodata. Quindi alla prossima poi la torre cade, ok? È partita vinta. Qui non c'è alcun dubbio. Ed ecco perché giustamente Andreasian, vedendo questa combinazione, sono sicuro che l'ha vista, non cattura il primo G5. Però anche donna E7 ormai non va. Donna E7 non va perché comunque il bianco può giocare la mossa al fine in C3. Non importa se la regina si trova in C5 o in E7, anzi, forse è ancora migliore questa mossa, perché c'è l'attacco in F6, c'è l'attacco in D7. È vero che la regina sta difendendo, ma la regina non può difendere tutto, è una sola. E quindi è complicato. Infatti dopo torre in C8, la mossa che segue, secondo me già molti di voi l'avranno vista, la combinazione è la stessa, è torre per D7. Perché dopo cavolo per D7 c'è il matto in H8, uguale come prima. Dopo torre per D7 ci sarebbe alfiere per F6 e poi il matto è sempre in H8. Qui un po' per la disperazione, Andresina gioca a donna per C5, re in B1 gioca Carlsen, B4, si cerca in qualche modo di resistere minacciando qui donne in C2, quindi probabilmente alfiere per F6 non funziona. Vabbè oltre a donna C2 effettivamente c'è anche donna F5, quindi non funziona per questo perché re via donna per F6. Il bianco rimane in vantaggio di un pezzo, quindi la partita è comunque vinta, però non c'è più il matto imparabile. E infatti Carlsen, che vuole vincere subito, non gioca alfiere per F6, ma gioca un'altra mossa bellissima, un sacrificio di regina, donna per G4. Non è complicatissima come mossa, abbiamo visto dei sacrifici molto più difficili da vedere, però in ogni caso da notare che qui in questa posizione abbiamo 1, 2, 3 pezzi in presa. Quindi comunque è veramente bello da vedere, per questo ho deciso di portare questa partita in questa rubrica, perché credo che è comunque un attacco pazzesco avere 3 pezzi in presa e avere una partita vinta. Qui il motore è da matto in 7 addirittura, quindi veramente la partita è finita. Vi faccio vedere, qui il nero è abbandonato, qui il nero è abbandonato, si è reso conto che la partita è finita, però per onor di cronaca vediamo le differenti linee, infatti qua il nero potrà giocare per esempio donna F5 oppure ancora B3 o B per C3, in tutti e tre i casi non si può fare nulla. Per esempio donna F5, donna F5 scacco, si propone un cambio di regina e perché non funziona? Perché dopo donna per, peone per, alfiere per F6 il matto è imparabile. Andiamo alla seconda, B3, qua è l'idea di B3, di ostacolare l'inchiodatura, però banalmente si può catturare il pedone, quindi qua giustamente il motore mi dice B3, ma vabbè è abbastanza banale. L'ultima B per C3 invece è quella più bella, il tema è l'inchiodatura e il matto in una, il matto in una perché c'è donna per G6 ed è scacco matto, è scacco matto perché il pilone F7 è inchiodato. Ok, quindi la partita si è conclusa in questa posizione, qui il nero chiaramente si è reso conto che le minacce sono una, due, tre, insomma sono veramente troppe. Come vede tutti i pezzi collaborano verso l'attacco, questa è la magnificenza, non so se si può dire, di questo attacco. Ok, siamo giunti quindi a conoscere questo video, se ne pensate lasciate un like, se vi è piaciuto in me lo tale da far capire a YouTube, far capire e pubblicizzarmi anche con gli altri account e quindi far crescere il cane YouTube, quindi lasciate un like e vi lascio qui di video in seconda pressione. Ci vediamo alla prossima, ciao!